Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video in realtà in questo nuovissimo vlog allora oggi sto partendo per il lago di Zeo questo è il giorno dopo il giorno che sono andata a Milano che avevo fatto il vlog, appunto l'ho caricato e adesso sto facendo il vlog di quando sto andando al lago di Zeo che ve l'avevo già detto e niente siamo arrivati ehi, room tour piccolo room tour della Sonsus Fatale siamo appena arrivati e adesso vi faccio un room tour molto veloce attenzione di chiuderla sinistra? si si ehi là ehi là room tour vabbè allora questa era la porta qui c'è una televisione molto Moderna Eh esatto Vabbè lì ci sono le nostre valise Scusate la luce che non è tanta Qui c'è l'armadio Qui c'è una bambola assassina Ok molto carina Che assomiglia Beatrice Poi vabbè qui c'è questo Qui c'è il letto Letto Ma è più grande di quella No allora io la piccola Stavo girando così E l'altro che la tua è grande Mi sono andato giù così di testa Quindi sono un po' morta E qui abbiamo di oggi una schiappa E after Ehi ciucchi Qui c'è un materasso C'è un materasso di gommoni No un gommone no Qui c'è il bagno No non è un bagno C'è solo un cavolo di cose E poi qui ci sono le robe da vestire Avevamo poche robe da vestire Ehi room tour Bellissimo E' molto grande Bene Mi andata Patrice Ehi la Cosa? Ehi la Dai non mi fai più più 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 Andiamo Ehi che bello laghetto Facciamo il bagno? Facciamo il bagno? Sii Guarda ci sono i paperotti Ci sono i mini paperotti Che carini E' emocionanti Cosa? Sei tu Cosa? E' una paperotta E' una paperotta Certo certo Guarda che ombre perso Capiamo ragazzi Eh si Ehi la ombre Ehi la Ehi la Ehi la Adesso vediamo i paperotti Ci sono i paperotti Andiamo al mare Si Andiamo al mare Intanto Andiamo al lago Le persone che ci guardano Tanto faccio snap Yeah Guarda Log time Sei la Sei la ragazzi Perché? Ti beccano Ciao No no lei ti becca Loro vive I più carini Guardali Vabbè ciao Non ho scappato Che figata Roba che mi butto E' fondissima qua I paperotti I muotano Te la sto con questi paperotti Oggi Vabbè 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 In casa Però Adesso ci facciamo la doccia E dopo E dopo Sì E fa fante così Un attimo Andiamo a farci la doccia Allora Ehi la Ci siamo Appena finiti di fare la doccia E niente Io finisco Che bei capelli Mamma Io finisco Adesso il vlog Niente Quindi spero vi sia piaciuto Vi mando questo bacio E ci vediamo al prossimo Video Che ho deciso Che farà un giorno Sì E uno no Sì Perché sennò Mi annoiate a morte Perché Esatto Per la fine Non è che Sono più o meno Le stesse cose No Hai da eliminare Stai Va bene Ciao 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 Ciao